Ciao a tutti, oggi vi faccio vedere altri rossetti Vice della Urban Decay che ho preso allora ho preso il Perversion che ha come effetto il Comfort Matte quindi è un matte però di buona tenuta nero e vai poi il Cruel della linea Metalize cioè scusate come effetto il Metalize quindi il metallizzato eccolo qua è diciamo uno rosso marrone, in pratica un mattone però molto luminoso anche perché ha questi micro glitter io ho preso il Pandemonium che è un mega matte quindi è un matte molto pronunciato questo bellissimo viola bellissimo, bellissimo questo è matte e questo è matte quindi diciamo la Fiesola da prendere due matte allora ho preso questi altri colori perché non li avevo trovati non li avevo trovati prima anche perché quando quando era arrivata il nero già non c'era più era era esaurito poi se lo sono fatti rimandare quindi ok e non li avevo trovato neanche il Pandemonium l'altra volta comunque perlomeno ce l'abbiamo fatta a me questi rossetti mi sono piaciosi tanto spero poi di poterli usare molto molto velocemente e niente che cosa vi posso dire girate se non li trovate in un negozio passate all'altro comunque quello che è veramente tutti i colori arrivati in Italia è il sepolro di Corso Vittorio Emanuele quindi diciamo magari lì se non l'ho trovato una volta ripassate come ho fatto io è l'unica cosa che vi posso dire ci aveva tutti un bacione ecco